Artisti fondamentali come Paolo Blicasso possono essere ispiratori di idee nuove, delle quali c'è bisogno per guardare al futuro, perché ci accorgiamo che le riserve del passato si sono ormai esaurite. La sua opera è innervata dalla capacità di leggere i drammi e le contraddizioni di un'epoca, l'epoca delle guerre mondiali, della Shoah, l'epoca delle grandi rivoluzioni culturali, delle grandi rivoluzioni politiche e credo quindi che ci sia da godere di una mostra bellissima in senso estetico ma anche di un percorso che ci fa molto riflettere oggi. Oggi che dobbiamo tornare ai fondamentali io spero che ci sia anche questa spinta e spero soprattutto che i più giovani possano imparare tramite questa eccellenza a guardare alto, a guardare lontano.